No vabbè raga, allucinante, ma sapevate sta cosa? Se entrate in qualsiasi supermercato e andate nel reparto delle uova di Pasqua A parte esserci un sacco di reparti, ma raga, incredibile Ho cercato qui, qui, persino qui Cioè, non le ho trovate da nessuna parte Ma qualcuno mi può spiegare com'è possibile, raga? Cioè, non ci volevo credere Non ci sono più le uova di Pasqua della Ferragni Svabbè